Questa parte, qui apriamo la nostra applicazione che noi la troviamo adesso trovata, perfetto, perfetto. Allora, iniziamo! Allora, iniziamo il 4-3-3. Allora, il 4-3-3 è molto ampio, trovo il 3-3-4. Ora ho trovato Albert, Barcellona, qua troverò Ronald. Come ho fatto a saperlo? Perfetto, facciamo tutto alle riserve perché... di che può servire al biorci per dare intesa così tutti i spagnoli erreranno. Però vabbè, il suor può dare intesa. Cioè, tutto intesa, tutti quelli che voglio, a parte... Vabbè, questo qua è bagatissimo. Ve lo dico. Non è quello, un altro. Comunque, Montoya, ho rinunciato a Shesney. Libra, ma non serve a niente. Non trovo da... Non trovo da... Non trovo da... Non trovo da intesa. Perfetto. Ok. 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 Questa ero Diego Costa. Perfetto. Ma perché? Si può ripescare? Ma guarda, è dato più schifo eh. Questa cosa buona che ha è l'82 di tiro. Poi non ho niente di buono. Poi non ho niente di buono. Poi non ho niente di buono. Torone. Poi ci metto Juarez. Che non è tutto il campo, però vabbè. Vale. Ok. Così abbiamo un'intesa abbastanza buona. Perché ho messo Apsi? Apsi. Perfetto. Apsi. Vabbè. Allora. Avanziamo. Alvaro Morata. Alvaro Morata. Aspetta. Lo sta venendo bene. Ah. Ehi. 91. Ci viene un portiere buono. Uhhh. Ventilie. Lo fa. 100. L'intesa. fantastico sperano un sacco di gol lo so però vabbè simuliamo i gratti prendiamo già un paolo ma c'è un po' ma c'è un po' però veniva benzema su arex meglio ok cominciamo stiamo contro un bunch of stores sui team perfetto che bello l'ho detto no 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 si è perduto da zero la roba la roba la roba la roba 15 15 15 che cazzo è cazzo che cazzo è cazzo Brad rossi non sverso la roba pane io dovevo un pacchetto dovevo un pacchetto poi tanto è fuori forte è più forte che ho trovato poi boffo c'è e non è più bello ragazze per un pacchetto anche pacchetto vabbè spendiamo tutti i soldi e apriamo questo pacchetto vedi funziona pure max funziona è buono 88 vabbè poi c'è una più quindi con guardia è un erano oh ragione è nuovo è ancora nuovo nooo nooo lui nooo lui nooo oh 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 sei so fuori la padula la padula la padula la padula la padula ah il nostro ultimo pacchetto ci vediamo ci vediamo al prossimo video ciao Grazie.